Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. La squadra mobile con il personale del commissariato di Avezzano e della polizia stradale è arrestato all'alba tre cittadini bengalesi responsabili di sequestro di persona a scopo di escursione nei confronti di un loro connazionale. Il sequestro è avvenuto la sera precedente quando l'uomo che si trovava a cena in un locale della capitale insieme alla compagna è stato afferrato da tre uomini i quali dopo aver scaraventato a terra la donna lo hanno trascinato fuori dal locale sin dentro una monovolume con la quale si sono allontanati a forte velocità. La compagna dopo aver chiamato il 113 ed essere stata soccorsa ha denunciato l'accaduto. Inoltre avrebbe riferito che la coppia si sarebbe rivolta ai connazionali per ottenere un prestito che per problemi di lavoro non sarebbero riusciti a restituire nei tempi concordati. Da qui il sequestro dell'uomo per indurlo a saldare il debito, le prime indagini avviate durante la notte dagli investigatori della squadra mobile di Roma e del commissariato Viminale hanno permesso di localizzare l'auto utilizzata per il sequestro attraverso la geolocalizzazione del cellulare della vittima che risultava fermo nei pressi di Carsoli dove l'uomo poteva presumibilmente essere stato nascosto. Alle 4 di notte di lunedì 31 ottobre su indicazioni ricevute dagli investigatori della capitale il personale della polizia stradale individuava l'autovettura nel parcheggio di un hotel a Carsoli. L'area veniva subito cinturata dalle pattuglie della polizia e dal personale della compagnia dei carabinieri di Tagliacozzo intervenuto in ausilio. Dopo aver riferito l'accaduto all'autorità giudiziaria di Avezzano il personale della squadra mobile di L'Aquila coordinava l'irruzione nell'albergo liberando l'ostaggio e traendo in arresto i tre rapitori, tutti accompagnati al commissariato per i successivi accertamenti. Ricostruita l'intera vicenda attraverso gli elementi raccolti e le testimonianze della vittima e della sua compagna, i tre sequestratori venivano tratti in arresto e condotti in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria per la successiva convalida. Le indagini degli investigatori proseguono per individuare le eventuali altre persone coinvolti nel sequestro dell'uomo.